Come entra Giancaro Granata in questo nuovo ruolo? Io intanto ringrazio la Presidenza nazionale per la fiducia che mi hanno accordato. Il mio ruolo di Vice Presidente regionale di questa associazione datoriale è quello di cercare di farsi portavoce, interprete di quelli che sono i bisogni del territorio, non solo della piccola e media impresa, ma anche dei professionisti e dei lavoratori autonomi, perché l'intuizione importante di Confimpresa Italia è quella di dare voce non solo alle esigenze della piccola e media impresa, che chiaramente sono l'obiettivo principale, ma anche delle partite IVE in generale e dei professionisti. E' infatti in questa mia qualità che rivesto il ruolo di Vice Presidente. Le proposte sul tavolo sono tanti, i temi di attualità sono tanti, sicuramente nella prossima giunta esecutiva regionale affronteremo alcuni temi principali. Uno dei più importanti che diversi imprenditori mi sollecitano è quello dell'accesso al credito, delle agevolazioni, perché molti imprenditori, piccoli e medi, hanno difficoltà nell'erogazione, nell'accesso ai vari tipi di finanziamenti, hanno difficoltà nella conoscenza delle opportunità. In questo senso siamo assolutamente in linea con la proposta del Presidente Musumeci, che va nella direzione di una unificazione in un unico istituto regionale dell'accorpamento di CRIAS, IRFIS e IRCA, pur mantenendo le loro specificità. Un'altra battaglia che sosteremo è quella della fiscalità di vantaggio. Proprio perché la Sicilia, la nostra provincia, sono delle aree obiettivamente depresse, è necessario che come Confimpresa, e ci auguriamo appunto che la politica in questo senso ci ascolti, si determinano delle aree urbane, franche, delle zone di fiscalità di vantaggio. Insomma, sono tante proposte che vanno nella direzione finalmente di una tutela vera, reale, concreta, dei bisogni degli imprenditori. Quindi Confimpresa Italia, per la provincia di Agrigento e per la Sicilia, nasce perché risponde a questa esigenza avvertita di tutelare davvero gli interessi degli imprenditori e dei professionisti. Anche su un tavolo di concertazione con i lavoratori. Infatti oggi l'idea della bilateralità, quindi del confronto e della concertazione fra imprenditori e lavoratori, è un filone che intendiamo seguire. E quindi c'è tanto lavoro da fare e in questo senso, per quello che mi riguarda, porterò avanti le nostre proposte. Perché in provincia di Agrigento è stata ravvisata la necessità di portare questa esperienza, quella di Confimpresa Italia? Sì, Confimpresa Italia nasce comunque per volontà del Presidente nazionale, il dottore Luigi Manganello, che ha creduto di volere investire in questo territorio con un'associazione di categoria di natura datoriale. Noi già ci siamo costituiti come associazioni territoriali lo scorso marzo e devo dire grazie al lavoro di squadra, grazie ad una proficua sinergia con le altre associazioni territoriali, nel giro di un mese siamo riusciti a costituire Confimpresa Italia Unione Sicilia, cui il nostro amico l'Avvocato Granata riveste il ruolo di Vice Presidente regionale e membro dell'Aggiunta Esecutiva. Chi è Confimpresa Italia? Confimpresa Italia è un'associazione, quindi di natura, di un'associazione nazionale di categoria datoriale e ha lo scopo di tutelare tutti i diritti degli imprenditori, sia in ambito economico-finanziario, in ambito sindacale, ma anche di rappresentanza nei confronti delle organizzazioni sindacali. Oggi come non mai credo che l'imprenditore deve svolgere il suo ruolo di imprenditore e debba pensare solo a come raggiungere i suoi fini di natura imprenditoriale, lasciando di fatto alle associazioni di categoria datoriale il compito di fornire tutti quegli strumenti utili che gli possono comunque abbandaggiare nella sua crescita professionale e raggiungere quindi i suoi obiettivi. L'esperienza dei giovani in Confimpresa Italia Sicilia per far capire quelle che sono anche le esigenze della nuova generazione e per chi vuole fare impresa. Assolutamente sì, da oggi parte un nuovo ciclo per l'impresa della nostra provincia, con Confimpresa ci muoveremo in sinergia con la Confimpresa regionale e con la Confimpresa nazionale per muoverci per la nostra provincia, una provincia che ha delle potenzialità enormi però a volte non vengono sfruttate quindi noi saremo di supporto agli imprenditori perché gli imprenditori devono svolgere quel lavoro, devono dedicarsi al loro lavoro, nella loro produzione, noi saremo di supporto per tutte quelle situazioni che possono essere di vantaggio per l'imprenditore e per il datore di lavoro. Come dicevo da oggi incominciamo questo ciclo che ci porterà sicuramente a creare una rete e una sinergia tra tutti i commercianti e i datori di lavoro della nostra provincia.